Dai, scatta, scusa, spregati! Nanni! 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 Nanni, guarda come sei venuto bene! E grazie, sono un grande uomo di spettacolo! La foto è bella, però proprio mentre dormi io... Volevamo ringraziarti per la Supercolor 1000! Eh, avete visto come si sviluppa subito? E che colori brillanti! Quando regalate Supercolor 1000, regalate il divertimento immediato Polaroid! E acquistando una Supercolor 1000, un microscopio in regalo!